E' polemica tra i componenti del comitato degli ex lavoratori del clorosoda e del presidente della regione Rosario Crocetta. Non sono piaciute affatto le dichiarazioni del governatore che nello scontro a distanza su petrolio e trivelle con Nello Musumeci di Diventerà Bellissima ha sottolineato di aver avviato negli anni delle vere e proprie battaglie da assessore sindaco ed eurodeputato, una su tutte, quella sui veleni del clorosoda. A noi non interessa la querella che esiste tra lui e Musumeci, inerente al faccio o meno o sia presente in quelli che sono i libri paga dell'Ene, a noi questo non ci riguarda. A noi interessa invece la concretezza. Il signor Crocetta durante la sua vita politica, solamente mi ricordo durante la trasmissione di Rai Trevi all'Italia in diretta, disse che era a conoscenza di fatti e di misfatti del reparto perché aveva lavorato in questo reparto. Ma le mie domande esorgono spontanee e nell'ambito in cui io vorrei rivolgere a questo signore dicendo come mai, essendo a conoscenza di fatti e misfatti del clorosoda, non è stato mai in procura di rendere dichiarazioni spontanee? Come mai non ha sentito la necessità di chiamare questo gruppo? Come mai? Ci sono tanti come mai. Adesso non si può tirare in ballo la querella con Musumeci per farsi da scudo a quella che è la vicenda del clorosoda. Il clorosoda, la vicenda del clorosoda l'abbiamo seguita noi da 11 anni a questa parte. Noi abbiamo perso i nostri genitori, nessuno ha perso i propri genitori, noi abbiamo collaborato con la magistratura, nessun politico ha collaborato con la magistratura. Una cosa che devo precisare è che c'è stata una commissione del comune che ci ha chiamato una commissione della sanità, ma ha servito solamente per farsi campagna elettorale. Le vere battaglie le ha fatti chi ha perso la vita, che sono gli ex operai. Noi familiari che abbiamo passato intere giornate dentro vari ospedali in vari posti d'Italia e noi abbiamo fatto la battaglia, ma questa battaglia per la verità e giustizia. Gli unici che hanno fatto insieme a noi questa battaglia, che hanno creduto e vogliono venire a scoprire la verità, si chiamano magistrati della procura di Gela. A loro sì che va un grazie, ma per il resto la politica rimanga fuori da questa vicenda e non strumentalizzi proprio questo dramma, questa vicenda per fini elettorali.